Sonia Viale, oggi a Vallebona si concretizza in un certo senso la community, l'arco del benessere, come? Sì, nel 2019 la community arco del benessere sarà capitale europea dello sport e del benessere, quindi abbiamo lanciato il primo evento, quello che si terrà a fine settembre, che sarà un evento legato al sport, il tennis, che vedrà coinvolti alcuni circoli sportivi del nostro territorio, Bordighiera, Ospedaletti, Camporosso in primis, quindi stiamo lavorando per far sì che questi territori vengano riconosciuti a livello europeo come luoghi dove si può fare sport, ma soprattutto stare bene, vivere bene, con uno stile di vita adeguato, ed è per questo anche come assessora alla sanità io sostengo questo progetto, che vede il comune di Vallebona capofila. Ha siglato anche un accordo importante? All'interno di questa giornata di presentazione del torneo di tennis abbiamo anche siglato con Access Europe un protocollo che individua questo territorio dei 18 comuni della community, luogo di sperimentazione dell'OMS, cioè dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per studiare i percorsi e l'attività fisica delle persone attraverso dei braccialetti che misurano quanto è il tempo dedicato all'attività fisica delle persone, anziani, giovani e persone di media età. Quindi questo è un importante obiettivo che verrà presentato a Lisbona nel 2019, quindi la misurazione di che tipo di attività fisica si fa nei nostri territori.